Ora è 7.13 Sì Dove siamo? A celle di Bellino Cosa si mangia per colazione? Minestrone Facciamo un macro sul minestrone di Marco Cioè, Andrea lo mangia per tendenza La tendenza è per pochi Chi lo mangia perché mi piace? Ma chi sei tu? Invece Carlo si fa un pomodoro Perché fa tendenza che il pomodoro Esatto Salita al col di vera, molto dura. Fatica, ma che fatica. Madonna, col di vera, la cima a coppi del nostro tour. Non facciamo dei vers, ho chiamato dei vers, hai capito? Hai ripreso. Sei a? Sei? Zero? Cinque! Trovare!